Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic, sono qui con il primo video di FIFA 16 Come ogni anno vi porto lo spacchettamento iniziale Visto che la web app ha aperto da poche ore E finalmente sono riuscito ad entrare, visto che c'era un traffico incredibile Abbiamo, come vedete, 5 pacchetti da aprire Vabbè, uno è quello promo bronzo, quindi non staremo neanche praticamente a calcolarlo Comunque, come ogni anno appunto vi porto questo spacchettamento In realtà avrei anche, penso, altri account O forse un altro, adesso non ne sono sicuro Però fatemi sapere se volete anche un altro video su questi pacchetti Così vedremo appunto chi troveremo Comunque, visto che questo è il primo pack opening di FIFA 16 Capiremo subito, probabilmente, se questo sarà l'anno dei pacchetti buoni oppure no Come praticamente tutti gli anni Fatemi comunque sapere voi nei commenti cosa avete trovato nei vostri pacchetti regalo Comunque direi di partire subito col pacchetto più ignorante Cioè quello bronzo che è proprio quello regalo iniziale Preferivo che mi avessero regalato qualche credit Invece ci regalano Abramson più qualche stemma, logo del cavolo Praticamente niente di interessante Mettiamo tutto nel club, torniamo allo store Direi di aprire i pacchetti con i giocatori oppure i pacchetti oro Questo è un bel bivio, partirei da Griezmann che stasera ha fatto una doppietta E vediamo cosa ci fa trovare Antoine Griezmann Sissigno, che cazzo è? Oh mio dio, ho trovato Bong Incredibile Allora, intanto ho il microfono davanti quindi non vedo i giocatori Ho trovato Bong Sissigno E la merda più che altro Mandorlini Una tizia Poi ho trovato, vabbè, qualche contratto Vabbè, robe praticamente inutili Ho sbloccato mille crediti, vabbè Questo ce lo teniamo Mettiamo tutto nel club Poi vedremo alla fine se vendere qualcosa Questi sono i nostri primi mille crediti Andiamo con... Magari facciamo un pacchetto oro Un pacchetto... Questi sono tutti i giocatori Sono dodici oggetti, quattro rari No, quattro oro e uno rari Quindi praticamente troveremo merda Però, vabbè, andiamo Siamo abbastanza curiosi Troviamo subito Ari Che è comunque un buon giocatore Ari, raro È un buon attaccante Guardate, ha delle belle statistiche Potrebbe essere interessante Tra l'altro fa triple intesa con Wanderson Che abbiamo appena trovato Poi ho trovato Angerrangel Ball Che non so chi sia Poi questo difensore che ha una buona velocità Questo tizio Quest'altro tizio Sempre con una buona velocità Però qualche bronzone ignorante Che non stiamo neanche a guardare Mettiamo tutto nel club E torniamo allo store Sarà un video, ragazzi, molto breve Perché apriremo solo questi quattro pacchetti Andiamo con... Facciamo ancora questo pacchetto E speriamo di trovare qualcuno interessante Volevo aspettare... Darren Fletcher Volevo aspettare di aprirli domani Che uscivano anche Team of the Week Però alla fine non ci sono riuscito Nel senso volevo aprirli subito Troviamo qualche giocatore veramente imbarzante E sostanzialmente non stiamo trovando niente Anzi sta tornando a essere l'Orgasmic di FIFA 15 O anche precedenti Torniamo nello store Abbiamo l'ultimo pacchetto da aprire Speriamo che ci porti bene Messi Su questo pacchetto Perché non sarebbe una cattiva idea Messi, ti prego, facci trovare qualcuno di buono E troviamo quella merda di Ciman Difensore centrale belga Comincia davvero, davvero male Questa... Questa prima... Questo primo pacchetto opening Jankovic Fai Zulin Mitrovic Ma questo... Vabbè, Mitrovic Poi vabbè, la forma fisica più 30 Ma non è assolutamente niente di che Quindi raga, in pratica Non siamo stati molto fortunati Comincia molto male questa scalata Su FIFA 16 Perché abbiamo solo 1000 crediti E con i giocatori che ho trovato Forse riuscirò a farci 4 crediti Quindi davvero... Siamo messi male Però adesso vedremo come andare Magari comprerò qualche FIFA Points E farò qualche altro pacchetto opening Sperando di trovare qualche giocatore Un po' più decente Comunque raga, spero che il video vi sia piaciuto O quantomeno voi avete trovato qualcosa meglio di me Fatemi sapere appunto nei commenti Cosa avete trovato Fatemi sapere anche quanti pacchetti avete aperto Lasciate un bel like Vediamo se riusciamo ad arrivare a 300 mi piace per questo video Iscrivetevi al mio canale Pagina Facebook, Twitter, Instagram Tutti i link li trovate come sempre in descrizione Ci vediamo al prossimo video di FIFA 16 Bella raga!